Allora Posso? Buongior Quale cappuccino? Vendemmia 2008 Vai, chef Vai Uno, due I-A-S-A 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 Manu, leva il sedere Massi, leva il sedere Vai, vai A-S-A I-A-S-A Saluta i tuoi genitori Vai, saluta tu padre e tua madre, ecco Ok E' tutto in nero, rigorosamente in nero proprio, eh Vai Frusta, frusta Dai, che poi gli diamo una tazzetta di riso Vero? Vai Dai, su, che poi gli diamo una tazzetta di riso G Come ti dici a girare? Vedi che numero è uscito, c'è Come ti dici a girare? No, no, no No, no, no Quello, quello No, quello è in inglese Bello